La parola va difesa perché la lingua italiana è una, lo sappiamo, delle più belle che invece un po' si sta depauverando per colpa di ognuno di noi quindi ognuno di noi forse avrebbe il dovere di adottare una parola, di tenersela cara di provvedere a che non venga imbrattata dall'uso che se ne fa.